Sì, cazzo, sono pronto! E per che cosa? Sì, cazzo! Cazzo! Sì, cazzo, sono pronto! Mai una caraventrata! Mai stata così felice di vedervi? Sì! Può tornare utile! Lo so che sono brava, ma che dico? Fenomenale! Ecco, può sempre servire! C'è della bella roba qui! Forse resto a fare la guardia! Ehi, ecco qui! Cos'è? Vi rimettiamo in sesto prima che andiate! Può tornare utile! Bella, un accessorio per la canna! Cosa abbiamo qui? Ecco! Ora potrò dimenticarmi il tuo compleanno! Per fortuna non rifornisco io questi posti! Potrebbe servire! Mi serviva per la medicina! A medicina non avrei mai pensato di fare queste cose! Questa è lì! Cosa mi è accaduto? Atch! Cosa mi è accaduta? Viene attaccato! Oddio! Adoniamo! Ammett, la moda! Ammett! Non è per gli altri! Cosa avete Stasi! Può tornare utile! E chi l'avrebbe mai? Brava! Non pensavo di diventare così forte. Devi sapere distinguere un mitra da una mitragliatrice leggera. Levatevi di mezzo! Fate attenzione! Ricarico! La testa! Abettisci! Devo ricaricare! Ah, la mia vecchia alma mater! È una scuola elementare, Hoffman. Ti ho fatto male! Senti? Riccardo! No! 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 Non sono stati! Ti è andata bene. Non ci facevo più a combattere. Ebbene sentire. È per me. Ricarico! Là! E non ci siete fortunati che non ho fame oggi. Di qui! Me l'avete fatta una volta, penuto. Non ricapiterà. Stronze. Laggiù. Visto? Rantumatore! Di dietro! Raggiù! Vieni bene, stronzoni! Sì, siamo nel cuore! Ups! Ricarico! L'avete visto? Sei un medico, devi far star meglio la gente, non posso? Ho visto qualcosa Da giù Ah, è disgustoso Ricarico Mantendo distanze, grazie Meglio fare attenzione Ottimo consiglio, grazie Scusi, mi serviva proprio Oh 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 Era la mia classe in quarta elementare La signora Felgram era severissima Sembrava un generale Prima dell'incidente Incidente? Una tragedia Mi dissero che c'era una possibilità su un milione E di non sentirmi Sentirti in colpa? Che hai fatto Hoffman? No Ok C'è un po' delle bretelle del mio L'armadietto era vicino Oh cavolo, mi dispiace È per me Mi serve copertura Ricarico Levatevi di mezzo Laggiù Medicine Brutta situazione per curarsi Munizioni Serve a me Migliori anni della mia vita Sono serio? No E non voglio parlarvi Grazie Ricarico Mi serve una mano Non ti ho fatto male? Medicine! Sentimento È una grana? Visto Visto? Visto Alla testa! Indietro! Là! Perfetto! Scusi, ho bisogno di cucire. Dobbiamo distruggerli alla svelta! Ricarico! Molto grazie! La faccia tua! Cazzo! Ho bisogno di una volta. Ricarico! La faccia tua! Cazzo. La faccia tua! No! Sovviglia un po' di buone maniere. Sono dualmente accertata. È in pessimo stato! Mi stai dentro, carico? Davvero? Quando sei un politico? Detonante! Quando avrò ricaricato, sarete in guai grossi! Dopo questo, lì giù! Forza! Da questa parte! Per chi ci fa incazzare? Ricarico! Andiamo allora! Perfetto termine! Ricominciamo! L'armadietto di medicinali! C'è un macete! L'armadietto di medicinali! L'armadietto di medicinali! Bello! Bello! Scusa! Ti ho rovinato la giornata? Occhio! Infettate! C'è una talpa! Sì, mi serviva prova! Sono di guai! Paffane a terra! Piratevi su! Non voglio volire, Ozzy! Beh, speriamo di uscirne tutti in te! Da questa parte! Sono a terra! Pensi che sia sempre di turno? Kit medic! Grazie, Doc! Mi faccio bene! Frantumatore! State indietro! Non scogli l'attimo! State indietro! È tossica! Bene, è finita! Ci sono bende! Andiamo! Là! Perfetto per me! Munizioni? Che cos'è? Visto? Copertura! Ricarico! Cos'era? Ora... Dovrebbero averne! Là! Mantieni le distanze! Grazie! ! Perfetto per aessà! Sp Statite! Che squel life! Perché c'i c'è? Qua beh? Oh! Oh no! Il KSC ha lasciato indietro l'attrezzatura, che strano. Le cose devono essersi messe male. La faccia tua! Ricarico! Acqua mi non serve. Cos'è? Cosa? Oh, sì. Quali verità e meraviglie ci sta gelando. Quali orrori. Ecco che ce li siamo. Come fate a non considerare la vita aliena? O ciò che abbiamo visto? Christophman, strano tu non abbia fatto un'incursione nell'area 51 quando è iniziata. Il mito dell'area 51 è stato creato dal governo per riscogliere l'attenzione della gente da tutte le altre aree, dalla 1 alla 50. Un altro vicolo cieco. Visto? C'è un colosso! Raggiù. Ricarico! Munizioni! Minchiatone! Là! Ottimo! Figuriamoci se c'è una batteria quando serve. Che schifo! Ricarico! Ricarico! Brutta situazione per curarsi. P要gli amare! Mi vai tricero-me anche più insu. Quattro appare? Quattro appare! arrogante in effetti! Bello! C'è un defibrillatore! C'è un defibrillatore! C'è un defibrillatore! Oh sì! C'è un defibrillatore! Via da qui! Ma perché non sta facendo? Sì, è qui! Orling, sta attento! Ritando! C'è un defibrillatore! È 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 un defibrillatore! Tutti giù, al riparo! Sta per cedere! Brutta situazione per curarsi. Possiamo farsela! Bene, vedi, vici. Niente! Quest'aba brucia! Devo ricaricare! Sì, per me! Sei fan delle armi pesanti? Io odio le rincuole. Di qua! Bang bang, stronzoni! Niente abbracci! Visto? Si, si ha! Ricarico! Sei! Ho sempre preferito le attività all'aria aperta. Ehi, là! È utile. Visto che roba... Ecco, qui. Cos'è? Conosco il vostro gioco, amici pennuti. Là. Non attacchiamo quella talpa. Attenzione, uccelli! Ecco. Potrebbe tornare utile. Non mi ho fatto male? Non mi ho fatto male? Prendete! Ricarica! Ricarico! Mi serve copertura! Ricarico! Ora? Dovrebbero averne! Mi serve! No! 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 Forza, muoversi! L'avete vista? Devo assolutamente incere carico! Indietro! Chiriamo alla testa! Ricarico! Laggiù! Ritonate! Apertura! Ricarico! Ricarico! È per me! Una pistola! Ehi, ecco qua! Visto? Ecco, a me non serve! Salva! Occhio! Un dormiente! Una granada! Laggiù! Uccelli! Uccelli! Scusa! Ti ho rovinato la giornata? libri! Attenzione, uccelli! Buonasera! Uccelli! Io vago. L'autobus! Granata! Ecco qui. Forza! A medicina non avrei mai pensato di fare queste cose. Laggiù. È il tuo giorno fortunato, HR. La! Sono una ladra al contrario. Ma ha detto tra noi le cose migliori. Ora andiamo! No! 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 No!